In questo siamo facilitati, lo voglio dire, su un tema che è un tema cruciale della militanza, ad esempio nel popolo della famiglia, dall'udienza del Papa di ieri. Udienza incredibile, straordinaria, perché a un certo punto il Papa ha detto, e questa frase è nella trascrizione finale ufficiale che trovate sul sito del Vaticano, quindi non è una di quelle frasi aggiunte che poi vengono cancellate dalla ufficialità, lo trovate su vatican.va, non lo trovate la parola chiave, la parola sicario, diciamolo subito. Ieri il sistema mediatico è sobbalzato perché il Papa ha detto che l'aborto è come affittare un sicario per risolvere un problema. E' questa parola sicario ad aver cambiato completamente la valenza della catechesi di ieri dal punto di vista... Allora, il tema, ricordatevi è questo, la stampa e le televisioni anche hanno silenziato di fatto una catechesi che a tutti, mentre veniva pronunciata, è sembrata di enorme rilevanza. Perché l'hanno cancellata? Adesso poniamoci questo tema. Prendiamo per atto, diamo per acquisito il fatto che esista un meccanismo, perché lo diamo per acquisito, che se il Papa avesse detto viva il matrimonio gay avrebbe tenuto aperto, quindi su un tema che loro definiscono di diritti civili, avrebbe aperto tutti i giornali del mondo per settimane. Se il Papa dice abortire è come affittare un sicario, sempre sui temi dei cosiddetti diritti civili, complessivamente il sistema abbatte questa notizia e la cancella dalla dieta mediatica degli italiani. Il fatto nuovo è l'utilizzo della parola sicario, che evidenzia un meccanismo e assegna una responsabilità. Che hanno fatto i giornali? Chi era intervistato a Radio Radio subito dopo di me? Silvio Viale, cioè il medico che ha detto io i bambini li frullo. Perché? Questa si chiama censura, ancora più di censura. Non devono attivare quella parte di ragionamento che il Papa inevitabilmente con la sua frase innesca. Tant'è che oggi io a Radio Padova ho chiuso l'intervista dicendo, voi potete attaccare Adinolfi quanto vi pare, il popolo e la famiglia quanto vi pare, non è un problema, lo fate sempre, per carità. Però voi, poiché le posizioni che stiamo spiegando le ha spiegate il Papa ieri, adesso dovete avere il coraggio di dire che il Papa dice cazzate. Questa è stata la mia ultima frase a Radio Padova, perché è molto difficile, molto difficile, adesso per chiunque dire il Papa ha detto una stupidaggine. Nessuno si azzarda, tant'è che la soluzione è silenziare la frase del Papa. Persino i cattolici, persino avvenire, toglie la parola sicario, che è quella che innesca il meccanismo. Se c'è un sicario c'è un omicidio, se c'è un omicidio c'è un omicida, se c'è un omicida le conseguenze sono evidenti. Allora, attenzione a questo meccanismo. Cosa dobbiamo fare noi? Cosa riguarda noi ora? Noi dobbiamo far vivere quello che i media hanno fatto di fatto cancellato. Noi dobbiamo portare la questione dello scandalo intellettuale provocato da Papa Francesco nella riflessione di tutti. Perché adesso non potete più dire che è una pazzia di Alinolfi, è una pazzia della città di Verona, è una pazzia del popolo e della famiglia. Ieri, durante la zanzara, cominciavano a telefonare le persone a Cruciani, e vi assicuro che non le avevamo organizzate noi, dicendo le cose che diciamo noi. E Cruciani a un certo punto è sbottato e ha detto, ma che siete tutti del popolo e della famiglia durante la zanzara? Perché è molto difficile, molto difficile, adesso per chiunque dire il Papa ha detto una stupidaggine. Nessuno si azzarda, tant'è che la soluzione è silenziare la frase del Papa. Persino i cattolici, persino avvenire, toglie la parola sicario, che è quella che innesca il meccanismo. Se c'è un sicario c'è un omicidio, se c'è un omicidio c'è un omicida, se c'è un omicida le conseguenze sono evidenti. Allora, attenzione a questo meccanismo. Cosa dobbiamo fare noi? Cosa riguarda noi ora? Noi dobbiamo far vivere quello che i media hanno fatto di fatto cancellato. Noi dobbiamo portare la questione dello scandalo intellettuale provocato da Papa Francesco nella riflessione di tutti. Perché adesso non potete più dire che è una pazzia di Adinolfi, è una pazzia della città di Verona, è una pazzia del popolo e della famiglia. Ieri, durante la zanzara, cominciavano a telefonare le persone a Cruciani, e vi assicuro che non le avevamo organizzate noi, dicendo le cose che diciamo noi. E Cruciani a un certo punto è sbottato e ha detto, ma che siete tutti del popolo della famiglia? Durante la zanzara. Che siete tutti del popolo della famiglia? Me l'ha segnalato un collega, un amico del PTF di Piemonte, Mario Campianella, che sentiva in quel momento la zanzara. Perché? Perché evidentemente cominciamo a essere identificati come quelli che ripetono sempre questo tema, sempre, insistentemente, pure sembrando matti. Ma adesso è più difficile dire che il Papa è matto. È più complicato. Guardate il Vangelo di oggi come ci viene in aiuto. Bussate e vi sarà aperto. Chiedete e vi sarà dato lo Spirito Santo. E allora facciamolo. Lo abbiamo chiesto, lo chiediamo, e vedete che qualcosa accade di importante, perché Dio a chi chiede un pane non gli dà una serpe, non gli dà una pietra, come dice il Vangelo di oggi. Avvenire in prima pagina non ha scritto la parola sicario. Noi dobbiamo avere la forza di andarci a leggere e spiegare bene quello che sta avvenendo e anche dargli una lettura, come dire, per l'attività quotidiana che noi svolgiamo, che è un'attività politica. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è che non si abortisca più. Ho fatto una puntata ieri in cui ho dato i numeri. Sono nate più o meno mille persone. Sono morte 1500 ieri e ne sono state abbordite 241. È chiaro che noi abbiamo un gap tra nati e morti? È chiaro che si muore più che nascere? È chiaro che questo porterà... È stata presentata ieri una ricerca alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel silenzio totale dei media. alla perdita del 17% della popolazione in un trentennio, cosa che non è successa neanche nel trentennio che ha riguardato le due guerre mondiali. Questo è un male? Se è un male, noi l'obiettivo che dobbiamo porci è limitare fortemente fino ad azzerare le pratiche abortive. Come? Legando le mani ai sicari, o meglio, spiegando ai sicari che devono diventare obiettori di coscienza. Noi abbiamo proclamato ieri l'obiettivo del 100% dei medici obiettori di coscienza in questo Paese. È un obiettivo raggiungibile. Nella mia regione sono l'80%. In Basilicata sono l'89%. Prendiamo davvero spazio con questa campagna. Ai medici, diciamo, dovete essere obiettori di coscienza. Perché? Non perché lo dice Adinorf, il PDF, il Papa o il Vangelo. Perché lo dice il vostro giuramento di Ippocrate, in una certa direzione. Ieri il Papa ti ha detto, per esempio, che la direzione in cui va il mondo non è la direzione giusta. è come affittare sicari. La frase chiave che ho inserito nell'editoriale di Oggi della Croce, unico quotidiano che apre, che fa l'apertura sulla frase abortire è come affittare un sicario, la frase che ho inserito fondamentale della catechesi di ieri è Papa Francesco che dice «Nessuno misuri la vita secondo gli inganni di questo mondo». Questa è la frase chiave. «Nessuno misuri la vita secondo gli inganni di questo mondo». Come può essere terapeutico, dice il Papa, civile o semplicemente umano, «Un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo sbocciare». Io vi domando, è giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema? È giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Non si può, non è giusto fare fuori un essere umano. Benché piccolo per risolvere un problema, è come affittare un sicario per risolvere un problema. Un bibbo malato è come ogni bisognoso della terra, come un anziano che necessita di assistenza, come tanti poveri che stentano a tirare avanti. Colui, colei che si presenta come un problema, è in realtà un dono di Dio che può tirarmi fuori dall'egocentrismo e farmi crescere nell'amore. La vita vulnerabile ci indica la via d'uscita, la via per salvarci da un'esistenza ripiegata su se stessa e scoprire la gioia dell'amore. Cosa conduce l'uomo a rifiutare la vita, dice il Papa? Sono gli idoli di questo mondo, il denaro, meglio togliere di mezzo questo perché costerà, il potere, il successo. Questi sono parametri errati per valutare la vita. Non affittate sicari per uccidere la verità. Uccidendo l'uomo, uccidete la verità. Uccidendo un bambino, uccidete la verità. Uccidendo un sofferente, un affaticato, un depresso, uccidete la verità, che è anche la verità della sofferenza, del dolore, della fatica del vivere, dell'essere tutti noi, non solo ego riflessi ed ego riferiti. E' lì che moriamo. Ma il problema è, è giusto? Punto di domanda. Quel punto interrogativo viene oggi rivolto da Papa Francesco a tutta l'umanità. E l'umanità ipocrita si vergogna abbattendo il livello del volume delle sue parole, cancellandolo dalla prima pagina di Repubblica, mettendo un angolino persino su avvenire. E invece noi dobbiamo far risuonare queste parole. E' giusto? Perché tutti sanno. Ho detto nell'intervista alla fine oggi a Radio Padova stamattina che ha ragione il Papa. Che non è giusto. Che la risposta fondamentale, la dà Vittoria Polacci, non è giusto, è sbagliato. E' sbagliato. E' sbagliato, resta sbagliato. Qualsiasi legge voi vogliate fare, sbagliato, resta sbagliato. E noi, popolo della famiglia, testimoni di verità, andremo in giro a dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato e a ripetere che ciò che è sbagliato è sbagliato. Fate leggere il quotidiano La Croce. Oggi solo il quotidiano La Croce apre sulla frase centrale, fa l'apertura, abortire è affittare un sicario. Non c'è da edulcorare, da cancellare il nome, da mettere nell'angolino. La frase è abortire è affittare un sicario. Ci chiede Papa Francesco nella catechesi, è giusto? Allora voi avete capito, avete in mano la carta vincente, fatevelo dire al pokerista. Avete in mano la questione delle questioni, la domanda semplicissima. E allora fatela vincere, fatela vivere questa domanda e fatela vivere da militanti del PDF, come dice Valerio Annecchino, che siamo davvero militanti della verità.